Analizziamo ora le tragedie manzoniane e prendiamo in considerazione anche gli scritti teorici e storici che furono premessi alle tragedie stesse e che comunque accompagnarono questo lavoro di stesura delle tragedie. Questi scritti teorici, come per esempio la prefazione al conte di Carmagnola, in cui si parla dell'importanza del coro delle tragedie, o la lettera Messia Chauvet, in cui invece si parla dell'unità di tempo e di luogo nella tragedia, un'unità che vengono disattese, e gli scritti storici, come le notizie premessi ai testi, il discorso sopra alcuni punti della storia longobardica in Italia, hanno la funzione di sottolineare le ragioni morali e religiose che sono alla base del suo avvicinanzi al genere drammatico. Quindi testimoniano come l'accostamento di Manzoni alle tragedie non sia un accostamento dettato da un applauso alla tradizione, perché comunque le tragedie erano un genere in voga nel tempo, ma anzi testimoniano il fatto che Manzoni abbia pensato fortemente a come potesse reinterpretare la tragedia per far dire, per arrivare a far sì che la tragedia potesse preannunciare delle innovazioni e delle riflessioni profonde. Innanzitutto Manzoni parte dal giudizio negativo che avevano dato alcuni moralisti cattolici sul teatro. Cosa criticavano questi moralisti cattolici? Soprattutto il fatto che il teatro suscitasse passioni e quindi fosse pericoloso per la morale religiosa. Manzoni quindi cosa fa? Non punta ad un teatro che sia un teatro di illusione, che sia un teatro che porti al coinvolgimento emotivo dello spettatore, ma vuole invece un teatro che disponga ad un giudizio critico, quindi ad un forte distacco da parte dello spettatore nei confronti della materia trattata. E in questo senso rifiuta le unità di tempo e di luogo aristoteliche non soltanto perché esse impediscono di rappresentare delle vicende che sono concatenate tra loro in maniera organica, ma anche perché vuole uno spettatore che non sia partecipe delle azioni, delle passioni, ma che sia testimone e giudice di ciò che viene portato in scena. Perché questo? Perché l'unità di tempo, così come la considera Manzoni, era qualcosa che imponeva alla tragedia una finzione, perché nella realtà, dice Manzoni, le passioni scaturiscono dalle persone in maniera molto più graduale di quanto debbano fare sulla scena se noi consideriamo una giornata come il tempo ideale della tragedia. È chiaro che quindi se bisogna far sì che le passioni poi arrivino a scatenare degli esiti tragici, è necessario che queste passioni vengano esacerbate, vengano amplificate in maniera appunto irreale. E questo amplificare le passioni porta ad un coinvolgimento emotivo forte da parte dello spettatore, cosa che invece Manzoni vuole evitare. E quindi anche il non rispettare l'unità di tempo va nella direzione di un teatro che sia un teatro del distacco, della riflessione. Ora, questo teatro del distacco fa sì che comunque Manzoni non sia stato mai apprezzato come drammaturgo, proprio perché le sue tragedie non portavano ad un coinvolgimento e quindi il pubblico non le apprezzò. Le sue tragedie non furono di fatto quasi mai rappresentate, né quando lui era in vita, né poi successivamente. Sono delle tragedie sicuramente destinate con più successo alla lettura, proprio perché appunto consentono, o la lettura consente un giudizio critico. Partiamo dal discorso sopra alcuni punti della storia longobardica in Italia, che abbiamo detto essere uno scritto storico importante per arrivare alla concezione della Delchi. Manzoni parte dalla riflessione dei lavori storici e del Muratori e del Vico, e quindi dice, per quasi di vedere, con ammirazione e con dispiacere insieme, due gran forze disunite, nello stesso tempo come un berlume di un grande effetto che sarebbe prodotto dalla loro riunione. Nella moltitudine di notizie positive che il primo vi mette davanti, non si può non desiderare gli intenti generali del secondo, quasi uno sguardo più esteso, più penetrante, più sicuro, come un mezzo ad acquistare un concetto unico e lucido di tante pratiche, che separate compariscono piccole e oscure, di spiegarlo a storia di un tempo con la storia dell'umanità, e insieme ad arricchir questa, di trasformare in dottrina vitale, in scienza perpetua, tante cognizioni senza principi e senza conseguenze. Quindi dice Manzoni, è importante conoscere le opere storiche e del Muratore e del Vico, perché comunque ciascuno dei due storici ci ha dato una visione della storia parziale, e quindi considerando entrambe le opere si può avere invece una visione più completa. Ma Manzoni continua in una riflessione che ci interessa più da vicino, scrive, nella parte di Neretto, che se le ricerche filosofiche, le più accurate sullo stato delle popolazioni italiane, durante il dominio dei Longobardi, non potessero condurre che alla disperazione di conoscerlo, questa sola dimostrazione sarebbe una delle più gravi e delle più feconde di pensiero che possa offrire la storia. Un'immensa moltitudine d'uomini, una serie di generazioni che passa sulla terra, sulla sua terra, inosservata, senza lasciare traccia, è un tristo ma importante fenomeno, e le cagioni di un tal silenzio possono riuscire ancora più istruttive che molte scoperte di fatto. Cosa dice Manzoni? Dice che il fatto di non aver trovato testimonianza diretta delle masse popolari, cioè della storia del popolo italiano, nel periodo della dominazione longobardica, ma poi anche nel periodo della dominazione franca, è un dato importante, sia una mancanza, ma una mancanza che dice molto su quel popolo, sul fatto che gli, chiamiamoli italiani, ma insomma il popolo romano, diciamo così, avesse subito passivamente la storia dei dominatori che appunto passarono per l'Italia. e questo dato, questa passività, è un punto di partenza fondamentale che fa sì che Manzoni dia voce a questo popolo proprio nella tragedia Ladelchi, quindi per lui è questo è un dato di fatto molto importante. Il conte di Carmagnola. Prendiamo in considerazione gli aspetti più importanti delle due tragedie manzoniane, partendo proprio dal conte di Carmagnola, che è il primo che compare in ordine di tempo. infatti fu pubblicato e rappresentato a Milano nel 1820. L'azione è comprando un periodo di sette anni, quindi è chiaro che non viene rispettata l'unità di tempo di Aristotele. L'azione è ambientata nel 1400, in piano XV secolo, ed ha per protagonista Francesco di Bussone, che è il conte di Carmagnola, e che è un mercenario. Lui infatti prima ha militato come condottiero sotto il duca di Milano, Filippo Maria Visconti, e poi è passato sempre come mercenario sotto la Repubblica di Venezia. Militando per la Repubblica di Venezia, Francesco di Bussone sconfigge i milanesi nella battaglia di Maclodio del 1427, ma si comporta in maniera eccessivamente tenera nei confronti degli sconfitti milanesi e questo fece sospettare che lui continuasse ad avere delle trame segrete proprio con i milanesi e fu condannato per questo a morte come traditore. Manzoni prende una posizione in favore del conte di Carmagnola, considerandolo quindi innocente. In realtà la storia ci dice esattamente il contrario, che quindi Francesco di Bussone continuò ad avere delle trame segrete con i milanesi. Nella ricostruzione manzoniana invece il conte appare un uomo coraggioso e leale, vittima della storia, quindi vittima degli intrighi ingiusti di Venezia. La tragedia è divisa in cinque atti esattamente come la Delchi. La Delchi è invece stata pubblicata nel 1822, quindi due anni di distanza dal conte di Carmagnola, e l'azione è ambientata nell'VIII secolo d.C., comprando infatti il periodo che va dal 772 al 774, quando Carlo, il futuro Carlo Magno, è sceso in Italia, chiamato dal Papa, e chiamato dal Papa contro il re dei Longobardi, Desiderio, che aveva iniziato ad invadere i territori della Chiesa, e quindi Adriano, appunto il Papa Adriano, si spaventò e chiamò i Franchi, che erano cattolici. Come abbiamo detto, anche la Delchi è divisa in cinque atti. e ancora andiamo ad analizzare brevemente gli aspetti più importanti della tragedia di Delchi. La guerra fa da sfondo alle vicende, la guerra tra Longobardi e Franchi, ma sullo sfondo appunto di queste vicende emergono i drammi individuali dei personaggi. Innanzitutto la giovane Ermengarda, che è figlia del re Longobardo Desiderio, moglie di Carlo Magno, ma poi ripudiata da Carlo per ragione di stato, quando iniziano appunto le tensioni con il popolo Longobardo. Alla fine Ermengarda muore per il dolore provocato proprio da questa separazione da Carlo. Altro protagonista eccellente, altra vittima della storia è a Delchi, che pur essendo un uomo giusto, non riesce però ad evitare la guerra, perché comunque fa parte del popolo Longobardo, non può sottrarsi al suo dovere, e muore in difesa del suo popolo. Altro personaggio che vive un dramma è chiaramente il re Desiderio, che non solo perde il possesso dei territori in Italia, ma assiste anche alla morte di Ermengarda e di Desiderio. E senz'altro possiamo dire che tanto Adelchi quanto Ermengarda siano dei vinti, perché Adelchi appunto è un uomo giusto, ma che si deve piegare alla storia. E c'è una frase importante che Manzoni fa dire proprio ad Adelchi, non resta che far torto o patirlo. Quindi nella storia, secondo Manzoni, non c'è nessun risvolto positivo. La storia è caratterizzata da una dinamica legata a rapporti di forza e di violenza, quindi oppressi o oppressori. Non si può se non far parte di una delle due categorie, o far torto ed essere un oppressore, o patirlo ed essere un oppresso. E alla fine Adelchi, pur appartenendo alla stirpe degli oppressori, è una vittima della storia. E anche Ermengarda è una vittima della storia, perché vive drammaticamente sulla propria pelle le tensioni politiche tra Franchi e Longobardi. La Provvidenza, possiamo dire che sia un altro dei personaggi, un personaggio simbolico, diciamo così, della tragedia. La Provvidenza era intervenuta anche nel 5 maggio, chiaramente per guidare Napoleone verso un aldilà, diciamo, in cui la gloria terrena non avesse senso, e quindi verso la conversione. E anche il conte di Carmagnola si lascia guidare nella Provvidenza, proprio perché sulla terra non c'è giustizia. Allo stesso modo, la Provvidenza rivela un po' il senso autentico della vita, perché il senso autentico sta nel dolore che si patisce in vita per poter arrivare poi ad una redenzione dopo la morte. Leggiamo insieme la prefazione al conte di Carmagnola, perché Manzoni vi teorizza l'importanza del coro. Scrive Manzoni, Mi rimane a rendere conto del coro introdotto una volta in questa tragedia, il quale, per non essere nominati personaggi che lo compongono, può apparire un capriccio, un enimma. Ma è perso che, se i cori dei greci non sono combinabili col sistema tragico moderno, si possa però ottenere in parte il loro fine e rinnovarne lo spirito, inserendo degli squarci lirici composti sull'idea di quei cori. Se l'essere questi indipendenti dall'azione, non applicati a personaggi, li priva da una gran parte dell'effetto che producevano quelli, può però, a mio credere, renderli suscettibili di uno slancio più lirico, più variato e più fantastico. Allora, cosa dice Manzoni? Parte dall'osservazione del ruolo che i cori nelle tragedie greche avevano. I cori delle tragedie greche, dice Manzoni, permettevano il procedere dell'azione e noi sappiamo bene che i cori delle tragedie greche, che venivano chiaramente cantati dal coro, erano anche espressione di un punto di vista collettivo, diciamo così, del punto di vista tradizionale della mentalità greca. Manzoni dice che i cori moderni non sono assimilabili a quelli dei greci perché interrompono l'azione scenica, quindi non permettono che la storia vada avanti. Però, dice Manzoni, questo potrebbe essere un vantaggio anziché uno svantaggio. Dice infatti, hanno inoltre sugli antichi il vantaggio di essere senza inconvenienti. Non essendo legati con l'orditura dell'azione, non saranno mai cagione che questa si alteri e si scomponga per farceli stare. Hanno finalmente un altro vantaggio per l'arte, in quanto riservando al poeta un cantuccio dove egli possa parlare in persona propria, gli diminuiranno la tentazione di introdursi nell'azione e di prestare ai personaggi i suoi propri sentimenti. Difetto dei più notati scrittori drammatici. Senza indagare se questi cori potessero mai essere in qualche modo adattati alla recita, io propongo soltanto che siano destinati alla lettura. Quindi cosa dice Manzoni? Dice che il vantaggio di questi cori è che permettono alla poeta, allo scrittore, al drammaturgo di parlare in prima persona. Cioè di parlare, di esprimere un suo giudizio, anche se poi chiaramente il coro viene messo, diciamo è come se fosse un momento a sé all'interno dell'azione drammatica, quindi non è l'autore ad intervenire in maniera diretta. Però chiaramente il coro esprime il punto di vista del drammaturgo, quindi di Manzoni. Questo è un vantaggio importante perché permette al drammaturgo di esprimere i propri pensieri senza metterli in bocca ai personaggi, cosa che lui ritiene invece un grande difetto dei drammaturghi contemporanei. E infine sostiene che questi cori devono essere letti e quindi non devono essere recitati, proprio perché la dimensione della lettura rende meglio il punto di vista del drammaturgo. Ora, partiamo dall'analisi del coro dell'atto terzo della Delchi, intitolato dagli atri muscusi e dai fori cadenti. Qui il soggetto del coro è un protagonista collettivo. Allora, chiaramente, come abbiamo già detto prima, è Manzoni ad esprimere il suo punto di vista, quindi il coro è il suo cantuccio. Ma il protagonista del coro è il popolo, è il popolo italiano. Il popolo dei cosiddetti latini, chiaramente, non c'era ancora un'Italia, dei latini che erano stati assoggettati dai Longobardi, ora si apprestano ad essere assoggettati dai Franchi, e sono assolutamente inerti. Vediamo nello stesso coro, non soltanto appunto rappresentato questo popolo latino, ma anche il popolo dei Longobardi sconfitti e dei Franchi che trionfano. Manzoni sottolinea come gli latini abbiano avuto una falsa speranza, un'illusione sciocca, che i Franchi fossero intervenuti in Italia per liberare appunto il popolo dei latini contro i Longobardi oppressori. In realtà, però, Manzoni sottolinea come nessun popolo combatte in maniera disinteressata e quindi questo gli permette anche di stimolare la nascente coscienza nazionale italiana. Quindi il coro, possiamo dire, che abbia una funzione conativa, cioè una funzione proprio di esortare gli italiani all'azione. Siamo, abbiamo detto, nel 1922, quindi nel periodo del fallimento dei moti rivoluzionari del 1921, quindi quanto mai è importante prendere coscienza del fatto che gli italiani non devono essere un popolo inerme come furono i latini del passato, ma devono appunto prendere posizione contro gli oppressori. La storia è rappresentata in questo coro dal punto di vista degli oppressi e quindi viene condannata o stigmatizzata la passività degli italiani, diciamo meglio dei latini, che Manzoni definisce proprio un volgo disperso che un nome non ha. Un volgo che scioccamente va superbo delle proprie passate ruine, cioè appunto dei propri monumenti, anche se ormai i monumenti non hanno più nessun valore se il popolo appunto non reagisce. E ancora andiamo a vedere invece il coro dell'atto quinto della Delchi, sparsa alle trecce morbide. È il coro cosiddetto di Ermengarda, quello che precede la morte appunto della giovane Longobarda. Qui si alternano delle parti narrative in cui attraverso dei flashbacks si ripercorre la storia di Ermengarda accanto al re Carlo e parti invece liriche che permettono l'introspezione della giovane, della psicologia della giovane. E la struttura potremmo definirla tripartita, cioè abbiamo una struttura divisa in tre parti. Nelle prime quattro strofe viene rappresentata, descritta Ermengarda morente, appunto con questa introduzione sparsa alle trecce morbide, con l'accusativo alla greca. Tra le strofe 5 e 14 invece prevale l'andamento narrativo e c'è appunto quest'ampio flashback che ripercorre la passata vita felice accanto a Carlo nei tempi in cui Carlo faceva battute di caccia ad Ermengarda lo vedeva tornare ansante. E infine le strofe 11 e 14 che in particolare si soffermano sul presente che è tormentato dal ricordo. Ancora, viene portato avanti il tema dell'amore terreno, appunto l'amore per Carlo che provoca sofferenze, che necessariamente deve essere superato in nome dell'amore per Dio. E tale passaggio dall'amore terreno all'amore divino deve essere attuato per mezzo della grazia che è l'unica a poter salvare Ermengarda attraverso però una scelta. E Manzoni introduce un altro tema importante quello della cosiddetta provida sventura. I termini provida sventura sono legati da uno simoro. La sventura è un termine chiaramente negativo mentre provida, provvidenziale, sottolinea un aspetto positivo. Perché la sventura è considerata provvidenziale? Perché la sofferenza permette di salvare Ermengarda dalla purifica, da ogni legame, da ogni connivenza con la stirpe dei longobardi oppressori a cui pure Ermengarda appartiene per nascita e quindi le permette, attraverso questa purificazione, di raggiungere la salvezza, di arrivare quindi a Dio. Quanto più si soffre nella vita terrena, tanto più, secondo Manzoni, si avrà appunto un premio nell'aldilà. In questo coro è importante il fatto che vengano considerati, vengano, diciamo, combinati, armonizzati sia il piano collettivo della storia che, come abbiamo visto, è considerata negativamente da Manzoni perché è fatta proprio da questa dinamica continua basata su rapporti di forza. Ma anche è presente il piano individuale, ovvero la sofferenza della giovane Ermengarda. E, infine, andiamo a leggere l'ottava scena dell'atto quinto della Delchi che esprime appieno proprio questo senso della negatività della storia che è presente in Manzoni. Qui, allora, abbiamo le parole di Adelchi, le parole che Adelchi rivolge al padre nel momento in cui Adelchi sta morendo. Adelchi dice Godi che il re non sei Godi che chiusa all'oprarte a ogni via Loco, a gentile, ad innocente opera non vè Non resta che far torto o patirlo Una feroce forza il mondo possiede Fanno marsi dritto La man degli avi insanguinata Seminò l'ingiustizia I padri l'hanno coltivata col sangue E ormai la terra altra messe non dà Reggere iniqui dolce non è Tu l'hai provato e fosse Non devi finir così Questo felice Cui la morte fa più fermo il soglio Cui tutto arride, tutto plaude e serve Questo è un uomo che morrà Allora, nelle parole di Adelchi che appunto si approssima alla morte Viene sottolineato come Desiderio debba gioire del fatto di non essere più un re Perché non essendo più un re Non può più commettere ingiustizia Dice appunto Adelchi Che non esiste un luogo o uno spazio Diciamo così per un'opera onesta Per un'opera giusta E come abbiamo detto Appunto dice Adelchi Non resta che far torto o patirlo Quindi la storia non permette Il trionfare della giustizia Il mondo è posseduto da una feroce forza Che paradossalmente viene definita diritto In realtà è una forza che si basa sulla violenza Infatti dice la man degli avi insanguinata Non è un caso che questa idea del sangue Ricorra anche nella cruenta polvere Del 5 maggio Quindi l'idea che la storia sia fatta In realtà di lotte, di guerre Di spargimento di sangue E non è piacevole Dice Adelchi Governare su persone ingiuste E lo stesso desiderio l'ha sperimentato E alla fine del suo discorso Sottolinea come lo stesso Carlo Che al momento sembra felice Che al momento sta trionfando È tuttavia un uomo che dovrà morire Quindi un uomo la cui gloria È soltanto destinata a durare pochissimo Quindi la cui gloria è assolutamente effimera Potenza È soltanto destinata a durare pochissimo Spargimento di spargimento di spargimento di spargimento di spargimento di spargimento